Ciao a tutti, sono Shogam01 in questo nuovissimo video sulla missione degli spioni Allora, per fare questa missione dovete avere almeno, essere almeno al livello 75 perché si sblocca quel livello E se la volete fare al meglio è meglio avere una columna, blindata ovviamente Perché ci sono dei nemici da ammassare Vente andare al parcheggio, entrate dentro, uccidete tutti Per uccidere più facilmente è meglio colpire la testa Se ce la faccio, ok Ok, come vede Ecco morto Morto Magari vi taglio questi kind, vediamo Uccisa Ucciso Vabbè così Ok, ho ucciso tutti Adesso devo solo uscire da questo postaccio Che non riesco a uscire Uscirò da Tutti i danni Vabbè lui era fuori Ok, uffa Vabbè lo investiamo Ecco Ora vi spiego la parte finale che si deve fare Arrivano questi ma fregatevene di loro Aspettate qua Anzi, se volete uccidetevi Ecco Adesso Poi io prendo La vintage Arrivano quelli con i documenti Ah no Loro Qua sono quelli con i documenti Li dovete seguire E dovete uccidere Il pilota Io non ho la pistola minata Punissioni Oh Fatto Ok, ho preso la rigetta Ora devo andare Fino alla casa di questo Metto in pausa E ci vediamo quando siamo lì Ecco lì Eccoci arrivati Consegniamo Ok, vediamo Quanto ci da GP15 che non ho mai capito Uh, 15.750 3.099 di FP Vabbè, il video stiamo qui Arrivederci al prossimo episodio